Benvenuto, non è vero, perché da noi non era mai arrivato. Buonasera, Anni Chi Vendola. E ben arrivata a Carta Piazza. Si accomodi pure su questo pubblico. Allora, Mauro, torni con noi. Lei sa benissimo chi è Anni Chi Vendola, vero? E lo ammiro molto. Grazie. E quando era in politica mi piaceva anche il suo modo di parlare, preciso, bello, puntualizzante e filante. Era un piacere sentirlo parlare. E poi diceva cose sagge che fossero state applicate, oggi si tribolerebbe meno. Bene, allora vediamo se le piace anche quello che ci racconterà stasera. Allora, Anni Chi Vendola, stasera non l'abbiamo chiamata qui per parlare di politica, ma per farci raccontare la sua vicenda privata di padre. Sintetizzo, lei nel 2016, insieme al suo compagno Ed, già avevate fatto l'Unione Civile. No, l'abbiamo fatta dopo. Non l'avete fatta dopo. Decide di diventare padre di un bambino che oggi ha sette anni, vero? Sette anni. Sette anni. Tobia, nato attraverso gestazione per altri in California. Quindi, Tobia, gestazione per altri in California, il seme era di Ed e invece l'ovocita è stato fornito da una donna e anche la gestazione, cioè l'utero, è stato, diciamo, fornito da un'altra donna. Ecco, come mai intanto avete preso questa decisione? Beh, non c'era un'alternativa. Avremmo volentieri evitato, diciamo, questa ricerca. Ecco, qui aspetti che la voglio far vedere. Siete lei, il suo compagno Ed e il bimbo Tobia, molto carino, di sette anni. Sì, è bello. Che per tutelare abbiamo dovuto, diciamo... Allora, ci dica tutto. Avremmo volentieri adottato un bambino. Sì, quindi un bambino già nato. Per noi non è mai stato un problema, diciamo, la genitorialità biologica. Avevamo il desiderio di crescere un figlio. Ed è durata anni e anni questa ricerca, perché non volevamo, come si dice, un utero in affitto. Non volevamo una donna incubatrice. Volevamo delle relazioni affettive, che potessero durare tutta la vita. E quindi questa ricerca è durata a lungo. E alla fine abbiamo trovato una ragazza che ci ha donato gli ovuli, con cui abbiamo un rapporto bellissimo. Il mio bambino è stato il paggetto al matrimonio di questa ragazza. E abbiamo trovato una donna che nella lettera che ci era stata presentata dall'agenzia chiedeva espressamente di conoscere persone che avrebbero voluto una relazione per la vita. E noi ogni settimana, con queste due donne, ci scambiamo foto, video. E ogni volta che è possibile raggiungere la California, ci accolgono e facciamo festa. Ecco, ma come le avete trovate queste due donne? Tramite un'agenzia. Tramite un'agenzia che ha sede in California. Come mai due donne diverse? Perché invece, magari noi che non conosciamo la situazione, pensiamo che sia un'unica donna a fornire gli ovociti che servono poi per essere fecondati al seme e poi a portare in grembo il bione. Perché la madre surrogata non è la mamma biologica. Diciamo, vede crescere nella sua pancia una creatura che non è sua, è consapevole di questo fatto, sceglie in questa maniera. In California la regolamentazione è molto rigida, a tutela anche dei diritti delle donne. Vorrei dire che è in mezzo mondo che è regolamentata la gestazione per altri. E se io fossi legislatore in Italia e dovessi intraprendere questa strada, la vincolerei, come in diverse nazioni del mondo, all'elemento dell'altruismo. La gestazione per altri altruistica è in tante nazioni legata proprio a questo gesto che è il dono nei confronti di un amico, di un fratello, di un parente, di qualcuno che, diciamo così, diventa il beneficiario di un trasferimento, di un gesto d'amore. Ecco, però voi non eravate parenti di queste due donne. No. Lei ha capito perché una donna si sottopone anche a una situazione così impegnativa come quella di portare nel suo grembo, diciamo, un bimbo per nove mesi per poi distaccarsene al momento della nascita? Cioè, per quale motivo? Se non per, come viene detto ripetutamente nel nostro paese, per soldi. Ma è difficile immaginare che la donna che ha portato mio figlio in grembo potesse farlo per soldi. Lei, con il suo marito e con i loro quattro figli, vivono in una villa, in un quartiere residenziale di Sacramento. Lei è assistente sociale, il marito è operaio specializzato, tutti lavorano in casa. La motivazione principale è la curiosità nel caso della nostra madre surrogata e la gioia di partorire, la gioia di fare figli. Questa signora a 30 anni ha avuto già molte gravidanze e ha vissuto soprattutto la gioia di vivere un anno a casa con i suoi figli, di poter giocare perché è una persona estremamente allegra. Non è come in alcune altre realtà dove l'utero è in affitto perché si sfrutta la povertà delle donne. Per quello io dico che regolamentare, evitare che la logica di mercato invada questa realtà mi pare un fatto importante. Ecco, ma voi quanto avete speso per la pratica complessiva? Perché dobbiamo ricordare che negli Stati Uniti e nel Canada, se non sbaglio, la legge regolamenta in maniera tale che non si può in nessun modo dare una retribuzione alla donna. Non solo, ma l'agenzia con cui abbiamo avuto rapporti noi non consente a una donna in condizione di indigenza di entrare dentro questa storia. Noi abbiamo rimborsato un anno di mancato lavoro, tutte le spese necessarie per la gravidanza e per il parto e poi l'impegno economico importante è stato quello per le spese sanitarie, i costi della clinica, le spese legali. Quello è un impegno rilevante. Ecco, ma come risponde a chi dice, avrà seguito naturalmente il dibattito che si è scatenato nel nostro Paese, che il vero rischio, e questo lo dicono anche persone che non sono di destra ma di sinistra, anche femministe, è quello che si vada incontro allo sfruttamento delle donne, le più povere, le più deboli, quelle che farebbero tutto questo perché costrette ad accettare dei soldi che gli servono per sopravvivere. Regolamentando, non proibendo. La proibizione difficilmente evita la pirateria, il gangsterismo mercantile. La regolamentazione serve mettere al centro i diritti delle donne e impedire lo sfruttamento della povertà. E, se posso dirlo, consentire l'adozione per i singoli e per le coppie gay. Cosa che nel nostro Paese non è consentita. Si ha paura, e anche io ho paura, della mercificazione delle persone, e allora si consenta l'adozione. Perché questo è ciò che invece viene impedito per ragioni ideologiche. Quando si dice che una famiglia è laddove c'è un uomo, una donna e dei figli, si dimentica che in Italia ci sono un milione di famiglie, un milione, monoparentali. Che la famiglia, quella con la maiuscola, è una cosa che esiste soltanto nella filosofia dei moralisti. Nella realtà esistono molteplici forme di vita familiare e andrebbero tutte tutelate. Allora, Tobia ha sette anni. Che cosa gli avete raccontato? Ma per il momento partecipa, diciamo, a questi momenti conviviali con queste zie. Così le chiama. Sono veramente nuove figure parentali. E progressivamente gli racconteremo tutto. Lui ha il diritto di conoscere senza zone d'ombra la sua storia biologica. Ecco, ma non è mai tornato da scuola, dall'asilo, chiedendovi come mai tutti gli altri bambini hanno una mamma e un papà e io invece ho due papà? Beh, perché... La domanda, diciamo, è quella che può venire in mente a qualunque... Non tutti gli altri bambini hanno mamma e papà. Quindi ci sono altre situazioni. Ci sono bambini di coppie separate, ci sono bambini che sono orfani di un genitore. Nell'esperienza dell'asilo non eravamo gli unici ad essere una famiglia arcobaleno. Però, diciamo, questo dubbio finora non l'ha inesplorato. No, lui la vive come un fatto speciale a due papà. Sì. No? E questo non gli crede. E la racconta anche in un modo che assomiglia a una favola. E cioè come la racconta? I miei papà si sono conosciuti e si sono voluti bene. Eh. Volevano un figlio. E hanno trovato una loro amica che gli ha regalato l'uovo. E così sono nato io. Capite? Dice. Sono figlio di un dono. Sono figlio di... Di un dono. Di un dono. Così, in una festa, nella festa delle famiglie che si celebra a scuola, lui si è raccontato così. Si è raccontato... Ma questo fatto... E' un bambino molto allegro, molto sereno. E' un'immagine... E lo si vede anche da queste foto. Che cosa significa per lei essere il papà di questo bambino? Ma... La genitorialità, per me, è un fatto essenzialmente sociale, un fatto culturale, un fatto morale. No, ma come emotivamente. E per me è stato, diciamo così, un porre un limite a me stesso. Quando abbiamo deciso di avere questo figlio, ci siamo dati una regola. La priorità era il bambino. Non avremmo cercato scorciatoie con me, affidarlo a babysitter. Ci siamo occupati 24 ore al giorno di lui. Infatti stasera ho saltato il turno, perché era il turno mio di metterlo a letto e di raccontargli la storia. Perché è un giorno per uno? È un giorno per uno. E lui ci tiene molto, perché tiene il contesto... E cosa le ha raccontato? Che saltava il turno o perché? No, le sto leggendo Le avventure di Cipollino di Gianni Rodari. Ah, come no? L'ho letta anch'io da bambino. Mentre l'altro papà... Credo che... L'altro papà li legge in inglese, perché il bambino, da quando è nato, parla anche inglese, di leggere storie, le favole inglesi. Allora, adesso voglio sentire anche l'opinione di Mauro Corona, però prima le voglio fare altre due domande. Ecco, ma lei come risponde a chi in questi giorni ha detto, come il Presidente della Commissione Cultura, Mollicone, che la pratica della gestazione per altri, poi viene chiamata diciamo più sbrigativamente, uteri in affitto, è peggio della pedofilia. O a chi vi dice che voi volete farvi riconoscere figli che non sono vostri? Guardi, ci sono famiglie cosiddette normali in cui si consumano storie di violenza e di degrado. Io dico soprattutto a chi esercita pubbliche funzioni, usate le parole con accortezza, perché le parole a volte sono pietre, possono fare del male, e soprattutto chi siete per giudicare, chi vi autorizza a entrare nella vita degli altri, che ne sapete dei sentimenti degli altri. Ecco, ma quando la Ministra della Famiglia dice che la maternità surrogata ha dei tratti razzisti, perché può portare a una sorta di selezione della razza, tant'è che viene scelto molto più frequentemente l'ovocita di una donna bianca, bella e bionda dell'est e costa molto di più dell'ovocita di una donna nera. Lei non pensa che questo pericolo ci sia davvero? Cioè che questo è un rischio a cui si potrebbe andare incontro? Cioè che uno si va a scegliere un bambino come in un catalogo? Sono contento che il Ministro Roccella abbia sviluppato questa sensibilità nei confronti del razzismo. Certo, se ascoltasse i comizi dei suoi colleghi in Consiglio dei Ministri, di alcuni suoi colleghi, avrebbe ragione di lagnarsi a proposito di razzismo. Vorrei dire a Roccella che quello che accade, che lei racconta, è quello che accade prevalentemente alle coppie eterosessuali nei paesi dell'est, dove è vietata la gestazione per altri alle famiglie arcobaleno, alle coppie omogenitoriali. Io questa storia, diciamo così, della eugenetica, la considero una leggenda. Naturalmente un rischio, per quello dico regolamentare. E se non bisogna regolamentare la gestazione per altri, ripeto, allora consentiteci di adottare i bambini. Piuttosto che tenerli nei campi profughi o negli orfanotrofi, credo che noi, coppie gay, coppie di due mamme o di due papà, possiamo crescere degnamente un figlio. Allora, Mauro Corona, ha sentito la storia della paternità di Nichi Vendola. Torniamo, datemi per favore, Mauro. Che cosa ne pensa? Come la vuole commentare? Beh, un po' la conoscevo la storia, perché quando è cominciata questa avventura di avere il bambino, avevo letto, ho sentito da qualche... Guarda, guardi Bianchina, sono molto... Quella è una condanna. Uso poco la parola felice, ma sono contento di questi due ragazzi, chiamiamoli anche se hanno qualche anno ormai in più dei ragazzi, che abbiano questo loro figlio. Sono contento per loro. E magari se ci arrivano anche a mettere assieme un altro ragazzino adottato che ce ne sono di disperati, che muoiono di fame, sfruttati sul lavoro minorile, nelle miniere, nelle cave di piombo, nelle miniere di piombo, mettergliene accanto un altro, anche due, si fanno anche compagnia e giocano. Il problema è che a me pare che questa politica, perché l'ho detto prima, uno che si occupa del destino dei suoi cittadini italiani non deve abdicare a se stesso, deve fare la risacca di se stesso, se era fascista, se era comunista, se era nazista, e fare per il bene e per un po' di gioia di questa gente. Invece ho una vaga idea che ci siano come delle piccole vendette. Ah, tu sei omosessuale, allora niente, vabbè. Questo non è sviluppo civile della società. Questi sono rimasti al ventennio e non si faranno mai voler bene. Perché è una mossa a favore di questo. Perché il nostro paese è arrivato sempre in ritardo, anche per esempio sul riconoscimento delle unioni civili. Ma perché siamo ancora figli, siamo ancora eredi di questa, che l'uomo deve avere la donna e fare il figlio. Ma allora tutti gli orfani, io l'ho detto tante volte in questa trasmissione, credo che se fossimo stati adottati da Vendola e il suo compagno, o da due donne, noi avremmo patito meno. violenze, fame, ecco, un po' in posizione. Ma questo lo deve capire la politica e agevolare anche le adozioni. Ci sono migliaia e milioni di bambini che non vedono l'ora di avere una famiglia, una fetta ipolenta in più e formaggio ce n'è per tutti. Ma perché si devono lasciare lì a morire? Ecco dove è l'inciviltà politica del non progresso. Sono contento per Vendola. Aspetti che vuole dire qualcosa. Brevi. Il primo, la gestazione per altri nella proposta di legge che sta per entrare nel Parlamento viene considerata un crimine universale. Non è considerato un crimine universale il genocidio. Non è considerato un crimine universale la guerra. è considerato un crimine universale mettere al mondo e crescere dei figli. Io resto veramente basito anche nei confronti di quelli che persino a sinistra hanno invocato la cultura del limite e hanno detto consideriamolo un crimine universale. No. E quando sequestrano, torturano e uccidono Giulio Reggeni quello è un crimine universale. Non dare la vita, toglierla la vita è un crimine universale. E seconda considerazione. La surrogazione di maternità non c'entra nulla con i diritti dei nostri figli. C'era un'epoca in Italia in cui c'erano diritti diseguali. C'erano i figli legittimi e i figli illegittimi. I figli nati fuori dal matrimonio non avevano gli stessi diritti. Questo oggi rischia di succedere ai figli delle famiglie omogenitoriali. Non c'entra con il tema della maternità surrogata. Questi bambini ci sono e i loro genitori hanno diritto a poter scrivere all'ufficio anagrafe il nome e il cognome di entrambi i genitori. L'Unione Europea ci comanda di regolamentare il diritto all'affiliazione ma per ragioni ideologiche perché sentiamo il ritornello la giaculatoria di Salvini bisogna vendicarsi contro chi ha fatto questa scelta facendo pagare il prezzo di questa scelta ai bambini. Noi con i sindaci credo di quasi tutta Italia non lo consentiremo. Anche perché dobbiamo dire che poi uno può ritenere giusta o sbagliata la scelta che è stata fatta di utilizzare la gestazione per altri che poi ricordiamo al 90% questa è una scelta che riguarda le coppie eterosessuali e solo al 5% quelle omosessuali peraltro composte da due uomini perché una donna due lesbiche non hanno bisogno di ricorrere alla gestazione per altri però poi nel momento in cui questi bambini ci sono come giustamente ricordava manichivendo la miridate anche Mauro Corona hanno naturalmente devono essere considerati in tutto e per tutto uguali degli altri mia figlia oggi nata fuori dal matrimonio dicevo prima che se mi sposo invito Mauro Corona ma lui non viene perché ha detto il contrario ai matrimoni ma neanche morto comunque adesso è totalmente equiparata i figli nati dentro un matrimonio ma in che anno sono stati equiparati i bambini se lo ricorda lei i figli considerati illegittimi da quelli legittimi credo non tanto tempo fa forse negli anni 70 con la riforma del diritto di famiglia appunto appunto allora Mauro comunque insomma però dobbiamo dire che Nichi Vendola attraverso un procedimento quindi giudiziario nel senso che il tribunale di Roma si è sottoposto a tutto l'iter che serve per essere riconosciuto ufficialmente come genitore di suo figlio ma in tanti non ci si sottopongono a questo procedimento ma che senso io ho dovuto aspettare due anni per diventare padre di mio figlio e in tutto il tempo dell'attesa dovevo girare con mio figlio ma con una delega in tasca quella del suo compagno la delega di mio marito perché altrimenti diciamo ero era illegittimo sì ero illegittimo e abbiamo vissuto la trafila che è una trafila impegnativa con gli assistenti sociali gli psicologi che vengono in casa che interrogano più volte me poi interrogano mio marito poi ci interrogano insieme poi interrogano il bambino prendono informazioni dei carabinieri vanno alla scuola o all'asilo a chiedere informazioni cioè devono giungere alla conclusione che questa famiglia è una famiglia diciamo che sa accogliere adeguatamente il bambino ho già detto in una trasmissione che gli assistenti sociali del comune di Roma e del tribunale dei minorenni alla fine ci hanno chiesto scusa perché sono venuti a curiosare dentro la nostra vita sono venuti a giudicarci e ci hanno detto abbiamo trovato una famiglia così bella così serena per noi che siamo abituati a vedere famiglie in condizioni di assoluto degrado ecco per questo forse evitare a chi ce le ha i figli questa trafila e poter consentire l'iscrizione all'anagrafe mi pare diciamo un diritto minimo di civiltà allora grazie davvero a Nichi Vendola per essere stato con noi per averci raccontato la sua storia Mauro vuole dire qualcosa per chiudere?